Ragazzi, sta per iniziare l'assemblea mattutina! Fate silenzio e mettetevi seduti! Non vedi che siamo già seduti? Infatti, tu sei l'unico in piedi. Che figuraccia! Il busto della sezione A è questo! Mettetevi in fila seguendo l'ordine alfabatico! Basta ora, fate silenzio! Giù i piedi dal banco, ho detto! Mineta, toglitelo dalla testa! Avete capito tutti? Non rompete la fila e affrettate il passo! Direzione il cortile! Guarda che sei tu a non essere in fila! Il dilemma del capoclassi! Prima A, qui a rapporto! Vediamo di salire a bordo senza intoppi! Disponetevi su due file in ordine alfabetico! Certo che Ida è il papero sul pezzo! Che diamine! Non sapevo che i sedili fossero così! Alla fine non è servito a nulla!